Ecco come Fabrizio Corona è una persona più intelligente di me, più preparata di me, più simpatica di me è diventato il personaggio più in trend negli ultimi mesi guadagnando un sacco di soldi semplicemente facendoti inc***are Ho riassunto per te la sua esatta strategia di vendita in tre step Uno, ego smisurato Se mi butto dal quarto piano, non muoio Lui vuole che tu ti incazzi con lui per il suo ego perché sa che in ogni caso genera un'emozione forte Infatti c'è chi lo odia e chi lo ama Insomma, vince sempre perché entra nella testa di tutti Due, gossip e associazione Fabrizio è assolutamente finita e Fedez e la Ferragni si lasceranno Punto Fabrizio parla di personaggi molto famosi con estrema superiorità Li tratta a pesci in faccia Tre, claim potenti Ossia, l'obriatore non è un imprenditore L'elemento chiave è il modo in cui dice le cose Lo vedi anche tu, no? È naturale e disinvolto Io nella vita mi occupo di vendita e ho preparato un video in cui ti spiego come faccio Lo tieni scrivendo Corona nei commenti Grazie a tutti